12 pacchetti di Gran Festa, penultimo spacchettamento per questa espansione Ciao a tutti ragazzi, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video Penultimo spacchettamento per Gran Festa, 12 bustine Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa prima del prossimo video Che uscirà quando riceverò le ultime collezioni che ho ordinato Ragazzi, andiamo Lo spacchettamento ragazzi sarà molto veloce proprio perché non voglio ammorbarvi Però i pacchetti di Gran Festa sono sempre più difficili da aprire, non ci si salva Codicino come sempre, questi li regalo tutti Abbiamo Reshiram, Kyogre, Groudon E oh ricerca accademica, questa non ce l'avevo Bellina bellina ricerca accademica del Professor Oak Bella bella davvero Nessuna ristampa per O Molto bene Via col prossimo Qui codicino Abbiamo D'Alga Zekrom Tenente del Rocket Che è sempre comunque sia Dell'espansione e ritorno del Team Rocket L'altra volta mi ero sbagliato E abbiamo Solga Leo Carino comunque Però Tenente del Rocket È davvero carina E poi ha quell'effetto ruvido Molto molto bene Ovviamente queste carte ragazzi Ho il raccoglitore apposito Non è che le tratto meglio delle altre Ma essendo 25esimo Essendo che il raccoglitore di Dragapult È fatto apposta per queste carte Beh, direi che hanno un posticino d'onore Xernias Oho Cosmoem E Lunala Uh, ok Carte che già ho Ma tant'è Non importa Via Altro pacchetto Ok Questi qui si aprono leggermente più facili Sì, distruggendoli Ok, però Codicino Abbiamo Logia Cosmoem Groudon E ricerca accademica Quella con l'arte normale Non quella con l'arte diverso Pacchetto Ok Distrutto Come sempre Codice Abbiamo Zekrom Di Alga Cosmoem E Solgale Wow Uguale a quello di prima C'è un pacchetto che è stato uguale Praticamente Stupendo Altro pacchettino Ragazzi Io spero di trovare qualcosa qui E se non trovo qualcosa qui Spero di trovarlo Con il prossimo Spacchettamento Che sarà l'ultimo per me Di Gran Festa Sia sul canale Sia che in generale Dark Gyarados Che già ce l'ho Ma fa sempre la sua porca figura E Lunala Boh Ragazzi Comunque sia È Dark Gyarados Che gli vuoi di Che gli vuoi di Sempre bello Altro pacchetto Perfetto Abbiamo quasi finito Già anche con questi Ma l'ho detto Sarebbe stato molto Molto veloce Abbiamo Ho Ho Lugia Grodon E Pikachu Full Art Fat Pikachu The Set Base Già ce l'avevo Sì le carte ovviamente Iniziano a ripetersi Bisognerebbe aprire 200 pacchetti Per trovare Davvero qualcosa di riverso Però Diciamo che sono stato Già piuttosto Graziato Con Gardewar Specie Delta Quindi Non mi posso lamentare Abbiamo Iveltal Palkia Graudon E Mew Ma questo Mew Ne ho trovati 10 Quindi Bene così No si scherza Non ne ho trovati 10 Avrei altri 4 pacchetti Da aprire Ma quelli ritengo Appunto Per rivenderli Quando saliranno di prezzo Perché i ragazzi Saliranno di prezzo Da far paura Scoppia la bolla Chi se ne frega Sono un collezionista Mi ritengo Grado Oh Sì Oh Che bello È italiano È italiano Luxray Livello X Oh Che godo Che godo Attenzione Perché sotto ragazzi Pure una carta V Dovrebbe essere O Zazia O Zamazenta Ma Luxray Livello X E sotto Zamazenta V Carino Tipo è qui Zio Ma Luxray Livello X Guardalo Guardalo Che bello Mamma mia Ragazzi Che fortuna Che fortuna Stavo pensando Oggi Dico Quando Poco prima di iniziare Lo spacchettamento Dico Vabbè Non troverò Magari Luxray Livello X Però Invece Eccolo qui Tatino Sustelli Buono Fammi dare una messa a posto Che se no Sembra che Non ci tengo Alle carte Eccole qui Tutte messe a posto Tanto finchè stanno Sul play mat Stanno tranquillo E' fatto apposta il mat Per Tenerle al sicuro Codicino Abbiamo Reshiram Kiogri Zekrom E ricerca E ricerca Accademica Ancora una volta Uffa Non è neanche ruvida Uffa Gli ultimi due pacchetti Per oggi Dai Dai che trovo qualcosa Su 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 Abbiamo Ovviamente Il codicino Falchia Di Alga OI Professor Rock L'impostore Carina Ecco Che figata Sì 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 Questa mi piace Molto E attenzione Zazian B Ok Che già ce l'avevo La sorellona Di Zamazenta Però Professor Rock L'impostore E Yeah Eccolo qui Facciamo un piccolo Close up Eccolo qua Guardalo Cazzatissimo Anche lui Bene 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 Ottimo 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 Ultimo pacchetto Qui per forza C'ha Rizard Dai Basta che non è spagnolo Ho ancora Il trauma Di Blastoise A spagnolo Perché Blastoise Perché spagnolo Che ti ho fatto di male Abbiamo Xernias Oh oh Allora 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 Facciamo a capirci Sotto chi c'è? Lunala Allora Questa Questa È la vendetta Del Blastoise Dell'altra volta Questa volta Italiano Mi sente Qualcuno Qui Ho le cimici Qui dentro Ho le cimici Qui dentro Ragazzi Porca miseria Blastoise Stavolta italiano Però Stavolta italiano Ok Non è Charizard Ma è comunque Uno starter Italiano Va bene Ci può stare Ci può stare Va benissimo Va benissimo Così Allora Ragazzi Oggi Un bel bottino Però Attenzione Non male Questi 12 pacchetti Delle buone Ristampe Abbiamo trovato E anche Ragazzi Però non si può dire Niente Allo spostamento Di oggi Quattro carte Ottime Tutte ristampe Ottime Vabbè Tranne ricerca Accademica Comunque sia Che è un'alternative Art Cosa Gli vuoi dire Questo è proprio Di questo set Sì Perfetto Oggi Uno spacchettamento Top Ragazzi Come sempre Spero che il video Vi sia piaciuto In descrizione Trovate il link Per Telegram E Instagram E noi Come sempre Ci vediamo Alla prossima Bye Ciao